Benvenuto al nostro ospite Piero Angela Buongiorno Buongiorno Piero, benvenuto, è un piacere enorme e un onore Una delle applicazioni che il 5G consentirà di realizzare in modo completamente diverso da quanto viene fatto oggi È l'ologramma, ologramma 5G naturale, interattivo, tridimensionale, ad altissima definizione Come ci si sente ad essere praticamente in due posti allo stesso momento, distanti centinaia di chilometri? Beh, questa una volta era la prerogativa dei santi Oggi gli informatici stanno facendo questa cosa molto meglio Ciò che consente di realizzare questi nuovi ologrammi così veri Sono da una parte la capacità del 5G di trasferire video in altissima definizione in pochissimo tempo E dall'altra il tempo reale nella reazione Quindi domanda e risposte fra l'ologramma che quindi è digitale e che si può trovare a centinaia di chilometri di distanza E la presenza fisica dell'intervistatore o degli altri partecipanti Era quello che da ragazzi si immaginava fosse il 2000 e che sta veramente realizzandosi E quindi domanda e schif Grazie per la visione!